Musica Purarsi a casa, bene e in sicurezza, un desiderio di molti ma c'è ancora tanta strada da fare. Il disegno come espressione, come liberazione, come passione nella giornata mondiale dedicata a questa arte abbiamo sentito voci e testimonianze. Nelle nostre rubriche io reporter da amandola e scadenze per non perdere neanche un'opportunità. Questa sera ospite di All News il DJ e vocalist Nicola Pigini dal calcio al ciclismo passando per i grandi concerti sempre con la musica in sottofondo. Buonasera, bentrovati a questa seconda edizione di All News, il telegiornale di TVRS. Fin qui i titoli, tanti gli argomenti di cui ci occuperemo, purtroppo anche un tragico fatto di cronaca. Ma intanto saluto l'ospite che è con noi questa sera, è il DJ Nicola Pigini. Bentrovato. Buonasera Manolita. Parleremo di musica, spettacolo, ma non solo e lo ritroveremo tra poco. Il nostro primo servizio è dedicato ad un argomento che sta a cuore un po' a tutti, vale a dire le cure domiciliari e la possibilità di essere seguiti a casa come o meglio che nelle strutture ospedaliere. Il punto con Lino Balestra. Le cure domiciliari consentono ai pazienti di essere seguiti nella propria casa. Questo garantisce loro la salvaguardia delle proprie esigenze, la vicinanza dei familiari e una qualità della vita nettamente migliore. I malati ematologici poi sono obbligati a lunghi periodi di cura, che accrescono notevolmente il senso di disagio e di solitudine. Le cure domiciliari sono il nostro fiore all'occhiello. Sono mirate al fatto, come dicevi tu prima Lino, di nessuno di noi vuole stare in ospedale. Ma non perché ci sono, sfatiamo queste cose, si mangia male, perché le infermiere sono... No, è perché a casa si sta bene, si sta molto meglio e seguiti si guarisce anche prima. L'evoluzione delle cure domiciliari ha permesso, fra l'altro, di anticipare le dimissioni dei pazienti che hanno eseguito una chemioterapia intensiva, per far trascorrere loro a domicilio il periodo più critico del rischio di infezioni ed emorragie e per eseguire le terapie iniziate nel reparto di degenza e di contenere anche la spesa sanitaria, evitando accessi incontrollati ai pronto soccorso e ai reparti. A seguire questo servizio un'equip multidisciplinare coordinata. Oggi è uno dei temi principali per quanto riguarda sia la sanità nazionale che la sanità regionale. Sicuramente offriamo un grande servizio. Perché? Perché cerchiamo di curare i pazienti a domicilio attraverso diverse prestazioni, che possono essere le trasfusioni di emazie concentrate, di piastrine, ma non solo, di antibiotico-terapia. Poi naturalmente ci sono gli infermieri che hanno un ruolo importantissimo, dove settimanalmente vanno a eseguire dei prelievi, le medicazioni. Abbiamo anche la possibilità di posizionare accessi venosi centrali a inserzione periferica, i cosiddetti PIC. Siamo abilitati. Abbiamo infatti inviato gli infermieri a fare dei corsi per poter essere proprio impiantatori certificati. Attraverso un'equip multidisciplinare, quindi tra i medici ospedalieri e naturalmente noi, i medici delle cure domiciliari, vengono identificati alcuni pazienti che possono essere trattati a domicilio. In particolare per quelle città, paesi che sono al confine o comunque che hanno difficoltà a portare i pazienti periodicamente, settimanalmente, ad eseguire anche un prelievo o una trasfusione, che solitamente vengono fatte in the hospital. E questo, diciamo, sia per i pazienti, ma anche per i familiari, è una cosa importante. Oggi si celebra la giornata mondiale del disegno. Non solo il padre delle arti, ma una forma di comunicazione, espressione, meditazione per i bambini e per gli adulti. Ci dice tutto nel prossimo servizio Camilla Cataldo. Padre delle tre arti nostre, architettura, scultura e pittura. Con queste parole, l'artista e trattatista rinascimentale Giorgio Vasari definisce il disegno, di cui oggi, 27 aprile, decorre la giornata mondiale. È stata istituita a Londra nel 1962 dall'Associazione dei disegnatori professionisti del disegno grafico, per celebrare questo mezzo di espressione come forma d'arte e prima forma di comunicazione degli esseri umani, ancora prima che venisse utilizzata la parola. Il disegno è fin dall'antichietà il padre delle arti. Il disegnare è sempre un atto di conoscenza, di scoperta del mondo che ci circonda. Comunque nasce sempre dall'osservazione, prende forma attraverso il segno delle linee che disegnano in un tracciato. Nello stesso tempo l'artista, disegnando, conosce anche se stesso e quindi costruisce un proprio stile, racconta di sé. Non bisogna mai dimenticare l'aspetto grafico iniziale, che è sempre appunto quel tracciare un segno sul foglio, che poi dopo, anche se comunque venisse elaborato digitalmente, però ecco l'idea progettuale nasce sempre sul foglio bianco. Il disegno stuzzica la fantasia e premia la creatività. Tutti, almeno una volta, hanno provato a fare uno schizzo o un bozzetto con una matita in mano. Lei comunica attraverso il disegno? Sì, sì, è più facile, senza righe, senza niente, vado avanti con gli occhi. Disegnavo quando andavo a scuola, però mi piace pure il disegno, ero bravissima e prendevo dieci. Ti piace guardare mostre riguardo al disegno e dipinto? Guardarle sì, andare alle mostre, certo, nelle città italiane, l'Italia è bella per questo, diciamo. Non sapevo in realtà di questa giornata, però ora cercherò di ricordare la ricorrenza, è importante celebrarlo. Ecco, dopo aver sentito, come facciamo spesso su alcuni argomenti, il parere della gente, abbiamo anche fatto parlare due artisti, una giovane pittrice e un decano del disegno sulla ceramica, con una preziosa considerazione finale affidata ad uno psicologo. Sentiamo i contributi raccolti da Manuela Cermignani e Cristiano. Pietro Paolo Il disegno, secondo me, è la rappresentazione grafica di un pesaggio, di una forma, ma anche di qualcosa di surreale, di irreale. Utilizziamo il disegno per poter portare nella realtà qualcosa che abbiamo nel nostro immaginario, nella nostra mente. La maiole è molto difficile, perché non è un quadro che tu lo dipingi, però se dopo tu sbagli, dirai il bianco e ricominci da capo. Non puoi sbagliare, perché se sbagli devi buttare, non puoi correggere in sostanza. Il progetto quindi è importante, ma l'idea di un soggetto, piuttosto che un paesaggio, piuttosto che un scorcio delle bellissime piazze di Ascoli Piceno. Per arrivare a fare una cosa sicura come queste qua, ci vogliono anni e anni di esperienze, non è che si imbara. Tutto quello che raccontiamo con un disegno non lo possiamo raccontare con centinaia di parole. In realtà, quando disegniamo, tiriamo fuori una parte profonda di noi stessi. Disegnare anche per diletto, senza badare al tratto estetico, senza badare al tratto artistico in particolare, ci permette di accedere e di scendere in profondità delle nostre parti più nascoste. Attraverso il disegno possiamo capire questo, attraverso il disegno possiamo tirare fuori questa parte così profonda e così vera di ognuno di noi. Da un'arte all'altra vado adesso dal mio ospite Nicola Pigini, DJ, producer, che sta vivendo da qualche tempo dei bei momenti di successo, ma la prima cosa che vorrei chiederti è se è questo che volevi fare da grande o che sognavi da bambino. Allora, posso dirti sinceramente che è una cosa che ho imparato a sognare col tempo, nel senso che logicamente da bambino non conosci quello che è tanto il mondo della notte, degli eventi, dei concerti, però sognavo di lavorare con la musica, ho studiato musica e da 15 anni in poi ho conosciuto la figura del DJ, da lì mi sono appassionato e non ti dico che avrei sognato di aprire un concerto di giovanotti, amavo giovanotti ma non pensavo mai di poter arrivare a tal punto, però step by step diciamo che i sogni sono cresciuti, mano a mano si concretizzavano dei sogni e da lì mi veniva sempre più fame. Ecco, ti sei esibito per grandi manifestazioni sportive, poi ne parleremo, hai anche aperto dei grandissimi concerti come il Jova Beach Party 2022, per due anni consecutivi sei stato il DJ dei party del Dopo Festival di Sanremo. Sport, spettacolo, mondo della notte, che cosa hanno in comune tutte queste realtà? Per quello che mi riguarda in comune hanno la musica, perché fondamentalmente io mi occupo di quello, quindi è da lì che parto, però posso dirti che proprio il fatto, a me piace il fatto che ci sono anche tante cose che non sono in comune tra questi tre mondi, quindi mi diletto anche un po' a spaziare quello che mi dà anche un po' di cambiamento, il cambiamento è sempre bello, soprattutto nel lavoro che è quello che non ti fa mai sedere, non ti fa mai collare sugli allori, devo dire che lavorare di giorno, magari al Giro d'Italia, lavorare di notte nei club oppure nei grandi concerti come il Jova Beach Party, che stavo vedendo, poi a rivederlo è sempre emozionante, sono tutte sfaccettature diverse dello stesso lavoro, ognuna ti dà un'emozione diversa, è una grande energia, esatto, è tutto un discorso di adrenalina, ognuno ti dà un'adrenalina diversa. Intanto complimenti, davvero emozionanti queste immagini, possiamo tornare in studio, resta con noi perché ci sono altre curiosità che voglio chiederti, cambiamo argomento, in Italia sono più di 6.500 gli incidenti provocati dall'assunzione di alcol e droga, ad Ascoli Piceno questa mattina si è svolto il momento conclusivo del progetto Sicuramente su strada, con un contest barman che ha visto impegnati gli studenti dell'alberghiero Ulpiani di Ascoli in una drink battle per il miglior cocktail anaconico, e a vincere è stato Jacopo Spinelli, ma ad inquadrarci l'iniziativa è Cristiano Pietropaolo che ha seguito l'evento per noi. Promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'incidentalità stradale, correlata all'assunzione di droga, congiuntamente alla sensibilizzazione della cittadinanza rispetto ai rischi della guida sotto l'effetto di queste sostanze attraverso la divulgazione di informazioni corrette. Sono gli obiettivi di Sicuramente su strada, progetto realizzato dal Comune di Ascoli con la Polizia Locale, in collaborazione con Pagefa e l'Ast Area Vasta 5. L'importante è consapevolizzare su quello che si fa, sempre. Parto da me, da 0,736, 0 sigarette, 7 volte al giorno frutta e verrura, 36 minuti di movimento. Questo per un benessere garantito immediato e futuro. In questo ci mettiamo anche l'alcol con un distinguo, anche in un momento dove ci sono state anche fin troppo polemiche, però, come sappiamo, quando si toccano temi popolari, la polemica è dietro l'angolo. Quanto è importante promuovere l'educazione e la legalità nei confronti degli studenti? Estremamente importante, anche perché sappiamo che il futuro appartiene loro, in particolare i ragazzi che frequentano la nostra scuola possono diventare loro stessi protagonisti e esempi, proponendo in maniera creativa cocktail che poi i loro coetanei possano utilizzare per uno svago sano. E adesso apriamo lo spazio dedicato alle nostre rubriche. La sigla apre la zona del telegiornale che si avvale dei vostri filmati. Numero WhatsApp in sovraimpressione 327 957 3655 per mandarci dei video, dei brevi filmati, mi raccomando in orizzontale, per raccontarci la vostra città oppure segnalarci delle problematiche. Andiamo a vedere insieme io reporter. Un nostro telespettatore di Amandola ci manda un filmato di una interessante iniziativa che si è svolta nel piccolo paese nei giorni scorsi con Marco Confortola, maestro di sci, rocciatore ed atleta internazionale che ha scalato 12 delle 14 viette più alte di 8 mila metri di altezza. L'atleta ha incontrato i giovani di Amandola e dei Sibillini per parlare di montagna sicura e di turismo della montagna. Per i ragazzi è stata l'occasione per incontrare un grande personaggio che ha parlato di sport come metafora della vita. Grazie anche al nostro telespettatore per questa segnalazione interessante. La nostra rubrica di oggi è Scadenze. È tempo di 7.30, quindi di dichiarazione dei redditi. Andiamo a vedere chi è che è obbligato alla presentazione e chi invece è esonerato. È obbligato alla presentazione colui che si trova in presenza di più certificazioni uniche, quindi che ha percepito più redditi nel corso del 2022. Quindi parliamo o di più datori di lavoro perché ha avuto più contratti oppure di pensionati che nel corso dell'anno hanno lavorato. Oppure in generale i casi in cui i sostituti d'imposta non hanno effettuato correttamente i conguagli delle imposte. Per quanto riguarda invece gli esonerati, sono coloro che hanno solamente una certificazione unica, quindi quando i sostituti d'imposta hanno correttamente applicato i vari conguagli, devono presentare la dichiarazione coloro che intendono avvalersi delle detrazioni, delle deduzioni, quindi dei scaricare gli scontrini sostanzialmente, e coloro che intendono devolvere le quote dell'IRPEF dell'8 per 1000, del 5 per 1000 o del 2 per 1000. Torno dal nostro ospite, Nicola Pigini, che è in partenza per un'altra bella avventura, un giro potremmo dire. Un bel giro lungo. Dove ti vedremo? Sarò al sesto giro d'Italia, che tra l'altro, il mio sesto giro d'Italia, che tra l'altro lo diciamo qui in anteprima perché ancora non era uscita la notizia, quindi possiamo dire oggi che farò il mio sesto giro d'Italia consecutivo, il giro è sempre il giro per me, per un amante del ciclismo come me. Ma cosa fa un DJ in un evento di questo tipo? Qual è il tuo ruolo? Allora, il mio ruolo è un po', è particolare, diciamo, perché non è il semplice ruolo del DJ. Eccoti. Esatto. Tra l'altro qui ero al processo alla tappa perché oltre al DJ della carovana, alla fine di ogni tappa, c'eravamo studiati questo piccolo format, questa piccola rubrica che si chiamava Giro in musica, dove raccontavamo l'Italia, diciamo tappa per tappa, attraverso i cantatori italiani. Al Giro d'Italia prevalentemente faccio il DJ in carovana, per cui con una carovana di 120 ragazzi anticipiamo la tappa del Giro d'Italia, ci fermiamo nelle 5 o 6 piazze più importanti della tappa, toccate dalla tappa, e facciamo 20 minuti di festa in ogni piazza, regalando sorrisi, gadget, comunque con tanti ballerini professionisti, acrobati, quindi è un vero spettacolo proprio in movimento. Poi c'è una colonna sonora, ascolteremo probabilmente le canzoni che ci accompagneranno per tutta l'estate? Ma assolutamente, anzi il Giro d'Italia è un modo per introdurre anche quelli che saranno i tormentoni estivi, perché solitamente escono nel mese di maggio, per cui sei un po' quello che anticipa la moda dell'estate. A proposito di musica, di estate, di feste, come abbiamo visto, che cosa hai fatto durante il Covid? Allora, il periodo del Covid è stato un periodo particolare, nel senso che all'inizio, come tutti quanti, ci siamo trovati un po' spiazzati, poi avevo trovato la mia dimensione nella produzione musicale, mi ero rinchiuso in studio per magari fare un po' cascina, come si dice, di dischi nuovi, avevo più tempo per me, avevo più tempo da dedicare allo studio, sempre con il punto interrogativo che non sapevamo quando saremmo usciti da quella situazione, per cui producevi con la speranza di beccare anche il filone musicale che ci saremo ritrovati. Te lo chiedo perché appunto ci sono dei lavori, delle professioni che in quel periodo hanno sofferto più di altre. La nostra è una delle professioni che ha sofferto più di tutti, perché mancando il live andava proprio a mancare la parte fondamentale di questo lavoro. Però lì l'unica alternativa era o fermarsi o investire su quello che sarebbe stato il futuro, con la speranza che sia stato il più prossimo possibile. E ricordi il primo grande momento dopo il Covid che ti ha dato emozione nel rivedere le persone, nel farle ballare? Il primo evento dopo il Covid fu una serata al Matchmore di Matelica, che ricordo benissimo perché mi trovai quasi spaesato a ritornare all'interno di un club, a tornare comunque su una console dal vivo. Devo dirti che ha fatto un certo effetto. Mi sono risentito come quando da ragazzino entravo per le prime volte nelle console. Una prima volta. Un'altra prima volta. Grazie Nicola. Anche oggi il riassunto della cronaca delle ultime 24 ore nella nostra regione, che purtroppo registra l'ennesimo incidente mortale sulle strade. Ancora un incidente stradale mortale ed ancora a Camerino. Nel pomeriggio, nello sconto tra una moto ed un camion, ha perso la vita un centauro lungo la statale 256 nei pressi dei container dell'Università. In provincia di Macerata è la quarta vittima in meno di una settimana. Conseguenze meno gravi. Fortunatamente incontrata Cimarella nei pressi del capoluogo, dove nel frontale tra due autovetture ha avuto la peggio una passeggera che è stata trasportata in elieambulanza ad Ancona. La strada, tra l'altro, è rimasta chiusa sino alla serata di ieri. False fatture di acquisto di Pellami per evadere il fisco sono state scoperte dalla Guardia di Finanza di Macerata. Nei guai un imprenditore titolare di un'azienda ormai cessata di Monte Cosaro. Le fiamme gialle hanno disposto il sequestro di disponibilità finanziarie per oltre 265 mila euro, tra cui una villa di pregio ad Anzio, nel Lazio. Tragedia sui binari. Una persona è stata travolta da un treno in transito nella linea ferroviaria tra Chiaravalle e Iesi. L'incidente è avvenuto attorno alle 12.30. Dalla prima ricostruzione si tratterebbe di un gesto volontario. Ancona, città cardioprotetta. Agli archi un nuovo defibrillatore donato da Rotaract e da Rotari del capoluogo Dorico. Un salvavita disponibile in caso di emergenza 24 ore su 24. Martina Linei. Nuovo defibrillatore ad uso pubblico ad Ancona. Un'altra postazione salvavita inaugurata nel capoluogo Dorico, in piazza del Crocifisso, nel rione Archi, grazie alla donazione Rotaract e Rotary Club Ancona, nell'ambito del progetto Cuore Ancona Città Cardioprotetta. Si tratta di un apparecchio semi-automatico con connessione Wi-Fi e 3G comprensivo di Totem e collegamento alla centrale del 112, del valore di 3.000 euro. La donazione rientra nel progetto Rotarheart, che negli ultimi anni ha visto l'installazione di altri sei defibrillatori nel territorio della città dorica. Uno in piazza Roma, uno in largo 24 maggio, piazza 4 novembre, piazza Galileo Galilei, piazza salvo d'acquisto, frazione Varano e prossimamente al Duomo di Ancona. Disponibili tutti 24 ore su 24. La cerimonia di inaugurazione del nuovo dispositivo, come occasione per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza riguardo alla possibilità di salvare vite in caso di arresto cardiaco. All'attivazione del macchinario presenti i volontari del Comitato di Ancona della Croce Rossa, che hanno effettuato una dimostrazione al pubblico su come si utilizza il salvavita. Ora vi parliamo di un progetto che mette insieme musica celtica, suggestioni, sogni, speranze e un forte desiderio di rinascita. Tutto questo nelle nostre marche. Sono iniziate le riprese del videoclip del brano My Fairy Dancer, del cantautore Bardico Eugenio Camoranesi. I primi take del video infatti sono stati fatti proprio questo sabato, 22 aprile, per poi proseguire con gli ultimi sabato 29 aprile a Montemonaco. Il messaggio è quello della rinascita, figure mitologiche non impreziosiscono il racconto del Bardo attraverso una visione molto particolare delle cose. Manifesto di rinascita per il territorio e soprattutto per quei paesi che sono stati colpiti maggiormente dal terremoto. Si parte dunque da Montemonaco per attraversare zone montane limitrofe alla scoperta di intrecci fantasy mitologici e realistici. Il terremoto la fa da padrona e il fine ultimo del racconto, una storia che vi lascerà sicuramente col fiato sospeso fino alla fine del brano musicale ed oltre. Alla regia troviamo il videomaker e filmmaker maceratese Leonardo Ranzuglia, mentre gli attori principali del videoclip sono Emanuele Accattoli, nel ruolo di un giovane paesano, Lucia Zahira nel luogo della figlia della Sibilla, ed Ambra Lorito controfigura per le scene in cui la figlia della Sibilla mostrerà il suo essere caprino, con soccoli e zampe di capra create dalla stessa attrice Ambra. Oltre alle tante comparse previste per le riprese del 29 aprile alla chiesa sconsacrata di San Michele, all'ingresso del paese di Montemonaco in cui verrà imbastita una vera e propria locanda con tanto cibo offerto dalle attività della zona e tanta birra. Infine un ringraziamento per le riprese di backstage va a Desi Michelini e all'operatrice Silvia Sacco. È arrivato il momento di aprire la pagina sportiva. Calcio nel pomeriggio è diventata ufficiale la notizia del deferimento in Serie C del Sena, la cui penalizzazione praticamente certa spalanca le porte alla possibilità per l'area canatese di accedere ai play-off, il cui inizio slitta comunque all'11 maggio. Abbiamo anticipato nella prima edizione del nostro telegiornale la notizia della sconfitta nella finale del torneo delle regioni dell'Under 17 delle Marche contro il Piemonte-Valle d'Aosta per 1-0. Solo applausi comunque alla rappresentativa di Baldarelli con la targa del secondo posto consegnata a Vercelli al termine della gara dal presidente della Lega di Lettanti Giancarlo Abete. Podismo presentata la marcia dei due comuni, Servigliano, Belmonte e Piceno, che si disputerà il primo maggio. Mario Giannini. La polisportiva Servigliano del presidente Delio Raffaelli da tempo sta lavorando per allestire al meglio la nona edizione della marcia dei due comuni sul classico percorso che da Servigliano porta i podisti a Belmonte-Piceno e ritorna poi al luogo di partenza. E' questa una collaborazione tra i due centri con il pieno appoggio dei primi cittadini Marco Rotoni ed Ivano Bascioni, che hanno visto crescere nel tempo la manifestazione. Diverse le novità di questa edizione, poiché data dell'evento sarà il primo maggio, giornata del lavoro, generalmente dedicata anche alla scampagnata fuori porta, ma a Servigliano ci sarà da mangiare e bere come di consueto. Cambiata anche la zona di partenza ed arrivo, non più in piazza, ma al Parco della Pace, che dispone anche di un'ampia zona verde per ristoro e fine gara. Oltre alla classica gara di 13 km, è prevista anche una bella passeggiata nel percorso lungo il Tenna. Spazio anche a chi vuol provare i supporti della Walk Therapy, realizzata da Pietro Cordari, che sta ottenendo anche nella riabilitazione i successi lusignieri. Domenica, dalle 6.30, ricordo la diretta gol su TVRS con la doppia diretta delle due gare clou del campionato di eccellenza, ossia Fossombrone Gallo ed Urbino Atletico Ascoli, con le telecroniche di Lorenzo Ottaviani, affiancato dal presidente nazionale di AIA, Conlus, Marcello Mancini e Mario Larocca. Stasera, consueto appuntamento con Ancona Channel, sentiamo le anticipazioni di Ferdinando Vicini. Amici di TVRS, vi aspetto questa sera alle 21.35 con una nuova puntata di Ancona Channel, gente di mare. Saranno con noi Andrea Bruniera, ex capitano Gloria dell'Ancona, e Giovanni Pagliari, allenatore della Re Canatese che ha appena affrontato l'Ancona. Parleremo di tutto, ci saranno le dichiarazioni di Tiong, ci saranno i servizi sulla partita, sull'arbitraggio che tanto ha fatto discutere di Re Canatese Ancona, e anche sulla stagione dell'Ancona, in vista dei play-off che, come sapete, hanno oggi avuto la decisione del Consiglio di Lega. Vi aspetto alle 21.35 con Ancona Channel, gente di mare. Noi, Flash, non possiamo non parlare della tua voce che ha portato davvero bene alla Re Canatese. Allo stadio sei lo speaker, quello che spinge questa squadra, che al primo anno di Serie C ha fatto molto bene, poi l'anno scorso hai commentato la cavalcata eccezionale per la vittoria del campionato. Che emozioni vivi e fai vivere allo stadio? Allora, partiamo dal presupposto che io sono un tifoso Re Canatese. Essendo nato a Re Canati, andavo da bambino con nonno a vedere le partite della Re Canatese la domenica, abitando lui sopra allo stadio. Quindi è una cosa che nasce da tanti anni fa. Poi c'è stata questa possibilità di entrare a far parte della società come speaker e sono entrato a far parte negli anni d'oro, possiamo dire, della Re Canatese, perché non ce ne vogliano le squadre degli anni passati, però il raggiungimento di tali obiettivi come quello della vittoria in Serie D, che non era mai successo, la vittoria dello scudetto di Lettanti e il raggiungimento di un traguardo storico che è la Serie C e che probabilmente oggi sembra sia anche il raggiungimento dei play-off, che è un risultato sicuramente inaspettato, non dico non voluto, ma inaspettato. Aver fatto parte comunque di questa storia mi rende orgoglioso. Tanto che c'è un inno, no? Tanto che c'è un inno, abbiamo fatto anche un inno, non ci siamo fatti mancare nulla. Questo dimostra anche la serietà e la voglia di far bene di questa società che mi ha incaricato all'inizio dell'anno di comporre un inno, che è sempre una cosa molto delicata, perché oltre a parlare di una città, di una squadra, vai a toccare un po' le corde delle persone, no? La sensibilità, anche perché l'inno è una cosa che poi rimane. Non è una canzone pop, magari, senza nulla togliere, perché la faccio io, quindi... Però l'inno è una cosa che rimane. Aver scritto e composto quest'inno è un bell'attestato, diciamo, per me. Di fiducia e di riconoscimento. E invitiamo tutti ad ascoltarlo e a scoprirlo, no? Sì, i leopardiani nell'infinito noi. Spotify, YouTube, comunque ormai. Grazie a Nicola Pigini, DJ, che è stato con noi in questa edizione. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione. Vi lascio alla prima serata di TVRS. Adesso la sigla e le previsioni del tempo. Il News torna domani con l'edizione delle 13 e 15. Infissi Design, l'evoluzione della specie. Dalle nostre finestre gli alberi si vedono. Al maglificio Pamira, solo i filati migliori lavorati a mano. Tessuti di qualità e 100% made in Italy. Un connubio tra le antiche tecniche artigianali e i moderni processi produttivi contraddistinguono da sempre la realtà di Pamira. Un team di professionisti con una grande competenza e creatività artigianale per un total look dedicato a tutta la famiglia. Abbigliamento 0-16 anni e tantissimo assortimento un uomo-donna. Maglificio Pamira, dal 1970 la realtà del lavorato a mano e la garanzia di un prodotto made in Italy di alta qualità. Cingoli e Monzano. Pamira, più la conosci, più ti innamori. Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Quando un campo di alta pressione sarà posizionato proprio sul Mediterraneo centro-occidentale tra la Spagna e l'Italia. Fortino inespugnabile per le perturbazioni oceaniche che transiteranno oltre Alpe. Comunque qualche pioggia in giornata giungerà sulle Alpi appunto settentrionali. Nel dettaglio ecco delle piogge tra Francia, Svizzera, Austria. Qualcosa anche sul versante italiano però i settori settentrionali. Altrove una giornata asciutta senza precipitazioni. In sintesi, la mappa dell'Italia appunto è una giornata in prevalenza anticiclonica anche al centro-sud. Sole, temperature diffusamente oltre i 20 gradi. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie a tutti!